Tutto pronto? Si aprono le gabbie. Partiti i cavalli del premio Mauro Sbarigia, sponsored by Chinotto Neri. Il più veloce dall'interno è NoWai, che però cerca una schiena e la trova subito in Canto Corale. L'altro che ha fatto partenza è Warrior Within, che si porta subito al comando, accompagnato da Cirano. Questi sono i primi tre. Il quarto è Convivio, a precedere proprio ai NoWai. Guida Sforza, ancora troviamo dietro a questi Mordimi, poi Wopart. Con Please, Exceed, Air Bud a completare il quadro dei partecipanti. Raifan anche in mezzo al gruppo, in coda a tutti, Strawberry Souls. Cavalli che sono già a tre quarti della piegata. Warrior Within ha fatto un bello strappo per essere lì. Adesso sta gestendo il parziale nei confronti di Cirano. Canto Corale, Convivio, I NoWai, Guida Sforza, Mordimi, ancora Wopart, Raifan, Air Bud, Strawberry Souls. Siamo addirittura ad arrivo. Passato il paletto degli 800 con Warrior Within in vantaggio. Cirano che preme sull'acceleratore ai suoi fianchi. Poi Canto Corale che con un balzo si porta proprio sulla sella di Cirano. In quarta posizione c'è Convivio all'interno con la giuba nera e gialla. E NoWai, Mordimi, in questo momento è lontano dai primi. Sta cercando un barco all'interno. Al centro della pista ci provano Guida Sforza e lo stesso Raifan. Gli altri che sono veramente molto lontani. Al paletto dei 300 ancora in vantaggio Cirano ma è messo sotto duro attacco da parte di Canto Corale. Questi due che si staccano in lotta ci prova ad inserirsi anche Convivio che si aggiunge alla lotta. Insieme a Guida Sforza, Cirano ha debellato il primo attacco di Canto Corale. Un arrivo veramente molto bello intenso. Cirano contro Convivio. Cirano che resiste su Convivio e Canto Corale. La logica dice questo piazzato del Parioli, il primo dei piazzetti del Parioli che vince il Mauro Sbarigia. Perfetto nell'interpretazione Sergino Urru che porta alla vittoria il figlio di Arcano alla quarta affermazione in carriera. Vince Cirano nei confronti di Convivio che ci ha provato fino in fondo al terzo Canto Corale. Numericamente l'ordine d'arrivo è 3-4-2 per questo Mauro Sbarigia. Come detto Sergio Urru in sella, training di Alduino e Stefano Botti. I colori sono quelli dell'arangio farm. Sono arrivati tutti in un fazzoletto ma l'affermazione è tutta per Cirano che aveva chiuso la favorito. 3-75, rivediamo di nuovo la ricorsa ma attraverso la ripresa frontale per capire anche che cosa un po' è successo. Cirano è quello che ha superato per primo in dirittura d'arrivo Warrior Within e poi si è difeso dagli attacchi reiterati da parte di Canto Corale. E poi dall'ultimo affondo di Convivio è tutto per lo Sbarigia. Linia Mario Berardelli e Valerio Giubilo.